La Cucina è stato un primo punto d'appoggio, poi in realtà una grande azienda che è cresciuta insieme a noi ed oggi è un ottimo partner perché poi è cresciuta insieme a noi con le stesse modalità, con la stessa esigenza, con la stessa voglia di accontentare il cliente. Per noi è uno dei maggiori allestitori, è un punto di riferimento molto forte, è un rapporto che dura da tanti anni e quello che a noi ha sempre dato il suo peso è la disponibilità nella prontezza per darci i veicoli, nella risoluzione dei problemi quando ci possano essere. C'è sempre stato questo rapporto di scambio, per cui ben venga. In questo momento stanno offrendo Cucini, sta offrendo veramente una panoramica larga anche perché noi cambiando di varie, cioè arricchendo la nostra azienda di altri marchi, quindi abbiamo preso nel futuro poi Isuzu, poi è entrato Giotti, abbiamo ora Volkswagen. Ogni volta che entra un nuovo marchio viene messo, sottoposto all'azienda Cucini come possiamo realizzare al cliente un buon prodotto e tutte le volte ci risponde prontamente e ci crea il prodotto giusto. Quindi ognuno dei nostri marchi è comunque stato vagliato anche da questa azienda che riesce a crearcelo, a renderlo più possibile per i nostri clienti.